ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato ad un unboxing ed eccoci qua come ogni tanto accade io mi premuro di portare sul canale un orologio entry level che poi entry level possa essere sotto i 400 i 300 i 200 i 100 ormai non si hanno più insomma qualcosa di poco costoso no per vedere se riusciamo a trovare un orologino intanto si trovano decente decente fatto bene con pochi soldi di spesa nel caso di oggi sono 200 euro meno di 200 euro chiaramente l'ho preso perché ogni tanto mi avanzano dei buoni su amazon quindi posso sperperarli come mi pare e ho sperperati per l'orologino in questione cosa voglio dire capita volte che li prendo per il gusto di recensirli e poi li rivendo sotto costo chiaramente no altre volte come in questo caso ho intenzione di tenerlo ora qua ci sono tutte le buone intenzioni di tenerlo poi vedrete perché come e cos'è perché mi ci vuole mi serve no la giovannetta scimmietta ha detto che un orologio così di questo colore qua ci vuole serve di questa tipologia qua serve e perché devo io che sono io per smentirla non è solo nessuno quindi le mie intenzioni di tenerlo e di portarlo fino ad arrivare a quest'estate quest'estate sarebbe il suo top perché è un diver si è un diver quindi beh altro dire no l'orologio del giorno e questo simpaticissimo omega acqua terra del 2003 circa primi anni 2000 con il calibro 2500 tutto 2000 tutto 2000 è però orologio che a me piace tantissimo che ho fatto revisionare dall'assistenza ufficiale quindi è perfetto service completo e me lo indosso con piacere mi rende elegante ora qua diamo un'occhiatina a questo bellissimo orologino qua perché non si vede l'ora cosa stiamo a fare ah ecco quale discorso che come come al solito come al solito io non è che faccio l'unboxing ve lo faccio vedere come diceva rocco si freddi e poi me ne vado via no io lo faccio in due tempi nel senso che faccio l'unboxing adesso diamo un'occhiata veloce poi fermo il video io lo indosso per una settimanetta e più e poi dopo faccio la video recensione ma voi la vedrete attaccata perché la magia del montaggio è questa no registro l'unboxing poi chiudo fermo il video lì faccio le mie cosine la mia recensione l'attacco e voi vedete tutto insieme quindi vedete l'unboxing è di seguito alla video recensione così non state a vedere lo stesso orologio in due video no cosa facciamo duplichiamo i contenuti qua ma cosa ce ne frega bando i discorsi super inutili qua perché sennò non si finisce più il mio coltellino qua ce l'abbiamo lo stupendo spider co ta che mi piace lo spider co e ci piace a tutti e quindi diamo la via a questo unboxing che credo sarà veloce perché hanno fatto un paro fatto un pacco qua dalla germania che è veramente poco sì perché l'ho preso su amazon ma da un negoziante tedesco quindi non è che do i soldi ad amazon così nel senso cioè il darò anche una cosa è già aperto quindi possiamo anche chiudere un unboxing più veloce del mondo qua i miei unboxing durano pochissimo ci abbiamo carta carta un blocco di carta qua carta carta via facciamo un po di smr un po di smr l'abbiamo fatto via altro smr mi hanno messo un cinturino in regalo mi hanno messo ragazzi questi sono o è suo no mi hanno messo un cinturino in regalo questo qua non era non era compreso non credo un cinturino oppure non ho sbagliato io è quello qua un cinturino rosso in regalo questa è una bella sorpresa c'è scritto che 15 euro non so devo andare a vedere la l'inserzione perché non capisco perché va bene apriamolo guardia anziché 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 una sassata in un occhio però bellino dai bellino dai 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 già abbiamo guadagnato qualcosa e siamo contenti qua non è che non si può non ci si può lamentare tagliamo la carta che non c'è la carta canta la carta canta carta canta guardiamo un pochino qualcosa che mi dice questo foglietto qua cosa dice alla fine ho speso più di più di 200 ragazzi va bene non mi ero accorto possibile vabbè io vi faccio vedere lo scontrino perché perché poi dopo c'è chi capita qua fra dieci anni fra cinque anni fa quattro anni diciamo come costava poco siamo nel 2024 nel 2024 ho pagato questa cifra qua eccola qua la vedete anzi ve la faccio vedere qua la vedete eccola qua la cifra che ho pagato è questa quindi 202 mi sembra non si capisce come mai pensavo che l'avessi pagato meno di 200 vabbè a volte non si sa e che cosa si tratta guarda della scatola già lo potete capire che cos'è è un simpaticissimo Vostok ho finalmente un orologio russo sul canale io gli orologi russi ne ho posseduti differenti di differenti fogge ah si si apre la andiamo un pochino le cartoline che ci sono dentro il libretto è un commandirski lo vedete anche dal suo bellissimo librettino qua oh a livello di carta non gli si può dire un cazzo è proprio c'è più carta possibile ce ne ho messe bravi 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 gli leviamo la protezione andiamo a vedere cos'è andiamo a vedere scatola rossa perché l'orologio è rosso anche lui è rosso un orologio un Vostok commandirski levato la pellicolina eh un Vostok commandirski che non si stacca più dal dito ve lo faccio vedere subito così al volo tac eccolo qua un bel diver commandirski con il quadrante rosso di quelli che poi d'estate ci fai il figurone alla grande eh proprio la grande qua vai un po' vedere come prima cosa fatemi vedere se è veramente tutto in ordine no la prima cosa che consiglio di fare sempre a tutti è unirsi di una lente o di un paio di occhiali di questo tipo e poi andare a controllare se è tutto a posto tutto a posto mica tanto eh ah no è sporco no perché questo qua è per exiglass no quindi è anche facile che si possa rigare però nel caso poi viene si pulisce si lucida facilmente si tolgono fammi controllare qua mi sembra tutto dritto tutto regolare tutto regolare la corona si svita tiriamo fuori sistemiamo le lancette ad ore 10 e 10 che così potete ammirare il quadrante come deve essere ammirato la si riavvita mamma mia va bene però bello eh fondella allora togliamo questo pezzettino di carta qua che non serve a niente apriamo così doppio oh ci siamo possiamo levare anche questo a livello di cose storte non ce n'è ragazzi quindi più o meno ci siamo eh eccolo qua guardiamolo per bene vostro comandirski orologino di simpatica fattura perché ho scelto questo volevo un russo volevo un russo in collezione e ho scelto di prendere questo ci sono tre motivazioni principali che mi hanno fatto propendere per questo vostro comandirski innanzitutto l'assenza della data perché perché gli orologi russi vostro non hanno la rimessa rapida della data alla corona quindi ogni volta che si vuole settare la data bisogna portare la sfera delle ore ad ore 9 poi portarla ad ore 3 tornare indietro e ripetere l'operazione finché non scatta il datario e lo si può regolare come meglio si crede ecco quindi la data lo volevo senza data e poi con questa cassa qua così in acciaio satinato io non so se riuscite a vederla adesso poi magari dalla recensione lo vedrete in acciaio satinato piuttosto che acciaio lucido come come spesso accade con dei vostri canfibia che ho visto no questo qua ha la cassa spazzolata che dà veramente la sensazione di acciaio ben fatto e poi soprattutto perché è rosso perché è rosso e quindi è un colore che poco si è cioè non ho in collezione praticamente qualcosa di di particolarmente differente dal solito per me poi al di là del bracciale che qua è di questo tipo qua che poi vedremo come ci posso mettere anche un cinturino un nato un qualsiasi cosa e questo qua diventa un gran bel orologio per l'estate io ve lo faccio rivedere un attimino così subitaneamente bello profilo simpatico con la corona eccolo qua questo è l'orologio che ho comprato praticamente vabbè dai si vede qua economico automatico calibro automatico non mi ricordo com'è 24-14 forse sbaglio però ci siamo dai si avvita si svita una lubrificatina magari alla corona gliela posso anche dare dai ci siamo ragazzi io ho altre cose da dire non ho l'originalità della cassa l'avete vista adesso io direi di girare la camera e guardare la panoramica di questo orologio e poi ci troviamo qua o nel futuro per le considerazioni finali partiamo come di consueto con l'elenco dei risultati ottenuti dalle misurazioni diametro cassa 41 mm spessore 15 ingombro trasversale al polso 48 e in trans e assa da 20 mm misure che sul mio polso da 19 cm di circonferenza risultano perfettamente adatte soprattutto in considerazione dello spirito sportivo di questo Comandirsky occorre sottolineare che si tratta di un design simile esagonale e che quindi 41 mm rappresentano la larghezza della cassa ciò che invece viene ingaggiato dal colpo d'occhio è la rotondità della ghiera e di conseguenza è proprio quella che determina la portabilità in pratica ci troviamo di fronte ad una base in acciaio ben visibile e straabordante sulla quale si adagiano ghiera e quadrante una siluetta alquanto spigolosa che porta con sé una buona dose di originalità quella personalità propria della maggior parte dei diver di matrice russa si vede chiaramente che l'intera sagoma è realizzata utilizzando linee che rifugono dalla malleabilità e che si intersecano senza cercare alcun curvilineo raccordo di transizione ogni superficie appare in acciaio spazzolato neanche troppo finemente e si congiunge alla successiva formando spigoli vivi in ogni dove tra lato caruro e fondello tra dorso anse e profilo laterale e addirittura in quel tratto deputato a formare le anse e il recesso finalizzato ad ospitare i finali tutto dritto e perpendicolare in alcuni casi si tratta di spigoli eccessivamente vivi quasi taglienti e questo non è un bene resta comunque il fatto che si tratta di una cassa pregna di personalità e di spirito sportivo osservandola lateralmente ci si aspetterebbe di trovare i 15 mm di spessore panciuti e ben presenti ma in realtà ci si presenta con un profilo filante alquanto sorprendente la carura è definibile come sottile è chiaramente visibile e il fondello quasi a filo e chi è quindi il responsabile di cotanto spessore? beh intanto la ghiera che è leggermente più spessa del solito e poi il vetro plexiglass che sporge di ben 2 mm dal sistema orologio va da sé che anche in questo caso la resa visiva è nettamente migliore rispetto ai dati dichiarati e il rapporto dello spessore con la larghezza e il lag to lag lo rende in definitiva ottimamente proporzionato ghiera che è composta da ben 3 elementi distinguibili struttura in acciaio lucidato inserto ghiera in alluminio rosso e copertura in vetro plexiglass è la prima volta che mi capita una ghiera protetta dal plexiglass e devo dire che può rappresentare un economico ed efficace sistema di protezione all'usura dell'inserto sottostante nel caso dovesse aggraffiarsi è sufficiente lucidarlo manualmente per ripristinare le condizioni originali esattamente come il plexiglass principale che sovrasta il quadrante occorre poi spendere un paio di ulteriori parole a riguardo della ghiera graficamente parlando la trovo anche piuttosto originale e interessante in quanto non presenta il tipico design degli orologi russi che molto spesso può non piacere ma un misto tra quel mondo e la grafica utilizzata dagli orologi occidentali unendo così appeal ed originalità a riguardo della sua funzionalità occorre dire che è bidirezionale e completamente liscia priva di scatti come da tradizione Vostok questo la rende ovviamente meno affidabile nel monitorare i tempi durante un'immersione il fatto che possa spostarsi è un chiaro impedimento soprattutto quando in gioco c'è la salute vi ricordo infatti che stiamo parlando di un orologio che grazie alle 20 atmosfere di resistenza dichiarate potrebbe tranquillamente essere utilizzato per immersioni semi professionali un dato che si riesce ad ottenere grazie alle solide tre caratteristiche tecniche corona fondello e vetro che qui però vengono interpretate differentemente iniziamo dalla corona ovviamente a vite e altrettanto chiaramente dotata di guarnizioni interne ciò che la differenzia da quelle standard è il sistema di scollegamento dal calibro una volta svitata oscilla libera da vincoli ma non spaventatevi non è un difetto del vostro esemplare semplicemente è un metodo pratico e spicciolo per far sì che eventuali urti a corona estratta non vadano a ripercuotersi integralmente sul meccanismo interno una mia trinta personale per settare l'orario senza intoppi suggerisco di tenere ben estratta la corona facendo una leggera pressione verso l'esterno in questo modo le sfere si ingaggiano senza esitazione c'è poi il fondello è armetico e da tenuta stagna ma utilizzando un sistema alternativo rispetto a quelli visti solitamente il fondello è composto da due elementi il fondello vero e proprio ed un anello filettato una sorta di flangia il fondello non ha alcuna filettatura ma semplicemente una superficie piana che va ad appoggiarsi sulla guarnizione sarà poi la flangia che avvitandosi andrà a far pressione sul fondello rendendolo impermeabile guarnizione che vista la differente conformazione del sistema risulta essere larga e piatta a differenza dei tipici o-ring che si trovano di solito il vantaggio è che sulla guarnizione in fase di serraggio non vi sarà applicata alcuna forza torcente in quanto la flange andrà ad avvitarsi ruotando sulla base del fondello in acciaio una volta aperto possiamo osservare il calibro automatico realizzato dalla Vostok stessa denominato 2415B spartano semplice e privo di decorazioni se non fosse per il logo sulla massa oscillante 31 rubini 19.800 alternanze orarie riserva di carica di circa 31 ore e scarto dichiarato di meno 20 più 30 secondi al giorno da una mia sommaria misurazione sul campo è risultato un più che confortante 8 secondi al giorno di anticipo sono stato fortunato da segnalare inoltre che non è presente lo stop secondi a corona estratta ma torniamo a quegli elementi che contribuiscono all'impermeabilità di 200 metri abbiamo menzionato corona e fondello manca il vetro sì perché anche il vetro plexi proprio grazie alla sua elasticità contribuisce attivamente alla resistenza alla pressione viene infatti montato in maniera tale da premere su di una guarnizione in modo che all'aumentare della pressione esterna aumenti anche la pressione sulla guarnizione favorendo così quella tenuta stagna prima esaminata a livello estetico è un trasparente curvo alquanto bombato che va a ricreare quel piacevole effetto distorsivo sul bordo del quadrante ciò non inficia la leggibilità che appare eccellente sotto tutti gli aspetti va semplicemente ad enfatizzare la minuteria a suo eo conferendogli un poco di calore vintage con questo non intendo dire che ci troviamo di fronte ad un dial che si ispira a qualche modello retro piuttosto abbiamo a che fare con gli stilemi tipici dell'orologeria russa numeri arabi ben evidenti scritte in cirillico sfere caratteristiche e quel simbolo militare ad ore tre che non risulterà mai tanto invadente quanto i tipici sommergibili o carri armati che solitamente ivi compaiono nel suo insieme lo ritengo apprezzabile il fondo rosso è sicuramente un azzardo stilistico perlomeno per chi predilige orologi più sobri ma nel complesso essendoci solamente bianco e rosso lo ritengo anche equilibrato ovviamente le finiture non sono di primo ordine ogni accento è stampato direttamente sul quadrante la saltinatura delle lancette lascia un poco a desiderare e il ring di congiunzione tra vetro e quadrante è completamente privo di lavorazioni resta il fatto che si inserisce alla perfezione nella logica di orologio carro armato che questo vostro migra ad essere l'unico punto tridimensionale di tutto il dial lo troviamo nei dot a corollario della minuteria non tanto perché siano applicati in rilievo con sapiente maestria ma quanto perché sono semplici cumuli di pigmento luminescente lo si può constatare in assenza di luce laddove sono proprio quei dot a fare le veci degli indici mentre sia le sfere principali che quelle dei secondi riescono a svolgere il proprio dovere autonomamente nessuna luminescenza invece per il comparto ghiera girevole non resta che di squisire a riguardo del bracciale ed occorre subito dire che questo orologio non si acquista per il bracciale a mio parere è quell'elemento da smontare e mettere nel cassetto per montare altro non mi piace il design con i finali dritti e molto distanti dalla cassa li trovo antiestetici anche perché essendo lo scasso quadrangolare si sarebbe potuto fare qualcosa di meglio con poco sforzo qualcosa di più adiacente alla cassa se non bastasse la qualità di costruzione è piuttosto bassa con maglie in sottile acciaio ripiegato su se stesso cerniera interna sottile e quasi piegabile a vista e claspa a doppia chiusura leggerina e alquanto cheap insomma un bracciale che dà la sensazione di essere gioccatoloso e poco consono la robustezza finora vista sulla testa dell'orologio possiamo tornare in presa diretta per le considerazioni finali e niente dai il venditore lungimirante ha ben capito che doveva mettere all'interno il centurino ecco spiegato perché ce l'ha messo lo sapeva anche lui che il bracciale del vostro fa pietà veramente a me non piace per niente quel bracciale credo che non lo indossero mai con quel bracciale lì anche se amo i bracciali in acciaio li prediligo solitamente questo centurino non ci sta nemmeno poi così male perché va a chiudere proprio anche il gap che c'è tra appunto il centurino il bracciale e la cassa lo va a chiudere maggiormente rispetto al bracciale in acciaio è una cosa strana evidentemente è troppo sottile anche se questo centurino non è che sia di quella gran qualità è idrorepellente quindi lo utilizzerò anche in mare si può utilizzare rosso d'estate tutto rosso ci sta però i forellini alcuni sono chiusi vanno un po' stappati con uno stuzzicadenti per intenderci non è che abbiano fatto un gran lavoro di artigianalità sembrano anche un pochino storti o se l'hanno fatto apposta non lo so poi i due ardiglioni così sono indipendenti uno indipendente dall'altro è un pain in ds riuscire a trovare i fori per chiuderlo al volo però magari è solo questione d'abitudine però lo preferisco sicuramente così che con il bracciale l'avete visto come bracciale non si può guardare non si può guardare poi c'è anche altre due soluzioni un cinturino in cuoio di John Kustraps track di quelli che mi ha dato in passato ce lo metto su e fa la bella figuruna oppure un nato nero in quel caso lì nero e va sopra e sotto entra dentro come diceva Cicciolino e lo vado al mare con quello vabbè risolto il problema cinturino bracciale che è tutto un dire per il resto l'orologio è diciamo un orologio maschio uno di quelli grezzi rozzi per l'uomo che non gli deve chiedere mai perché l'avete visto le finiture non sono di primo ordine sono finiture un po' alla messa lì nel senso che è veramente tagliente la parte qua interna dell'ansa è quasi tagliente se si tocca così col polpastrello si sente che taglia quasi come la parte inferiore qua che non è così tagliente ma è spigolosa cioè non è che stanno a vedere l'ergonomia di chi lo indossa sti russi no vai mettitelo e non rompe gli scatoloni poi il punto debole della ghiera bidirezionale lo sapete è una caratteristica di tutti i vostri quando lo compri lo sai che è così e poi quelle altre particolarità quali anche in senso positivo volendo il fondello chiuso con la flangia che questa è una cosa un brevetto interessante il calibro lo fanno loro lo possiamo definire in house per fare gli sboroni ma in realtà è un calibraccio un po' cioè di quelli rustici meno 20 più 30 secondi che ti danno come cioè la precisione non è il nostro forte però va il calibro va cammina cammina nei secoli dei secoli poi ho avuto più 8 sono stato fortunato la corona che quando la sviti è ballerina è normale deve essere così però se non presti attenzione a tenere bene fuori la corona e regolare rischi di perdere la regolazione nel senso che ti sfugge è un po' ballerino appositamente vetro plexiglass ghiera in plexiglass insomma è un orologio da battaglia da battaglia che però ha di buono la sua personalità la forma cassa così i brevetti che ci mette Vostok la storia il prestigio di questa prestigio la storia la tradizione mettiamola così di questa casa russa così da battaglia al polso la si può portare anche con soddisfazione cioè un orologino russo di questo tipo qua secondo me ci sta bene in una collezione certo non è il caso di fare di collezionare solamente orologi russi perché ci avevo anche pensato una volta mi era che balinata la scimia aveva cominciato a parlare a parlare in lingua in lingua slava e voleva tutti gli orologi dell'est stai in cammino bisogna un pochino diversificare non è che si può andare sempre dritti su un marchio solo o su una tipologia sola e l'ho convinta una delle poche rare volte che l'ho convinta a non collezionare solo orologi russi anche perché al tempo con 50 60 70 80 euro ti portavi a casa un vostro canfibia e quindi la voglia di avere tutto un ambaradan di orologi colorati differenti era tanta adesso costicchiano un po' di più avete visto io l'ho pagato poco sopra i 200 alla fine per le spese di spedizione ci sta può anche valerne la pena è un orologio del quale non ti devi vergognare avere al polso un vostro che ecco anzi devi andarne orgoglioso mi vergognerei ad andare in giro io personalmente poi voi fate come volete con altri con altri tipi di orologi quelli che sono copie di altri orologi ecco con quelli io mi vergognerei proprio non ci riuscirei neppure ad uscire di casa andare al bar e tornare indietro no proprio mi vergognerei cioè preferisco avere un orologio economico o anche con dei punti deboli come questo che però ha la sua personalità la sua storia sono sempre i soliti discorsi che ci piacciono tanto a noi appassionati a un certo tipo di appassionati ad altri piace piacciono quelle copie lì e non c'è niente da dire ognuno faccia un po' quello che gli pare quello che gli pare fino al momento nel quale non venite voi qua poi nel mio canale a dirmi è già questo ti piace e io ti dico no non mi piace fa cagare capito eh non venitemi a cercare io non vi cerco voi punto detto questo l'orologio alla fine è promosso alla fine è promosso avete visto quanti spigoli ha le finiture un po' così cos'ha però alla fine visto da lontano no visto da lontano è bello anche da vicino dai non voglio esagerare tutto stampato io ho parlato della finitura delle sfere che lascia lascia desiderare in realtà non è nemmeno una finitura secondo me sono tipo zincate avete in mente quando un cancello è zincato con quel grigio che ricopre a protezione e in questo caso è uguale c'è questa lavorazione qua che non è una satinatura sembra quasi un riporto di materiale sopra per protezione comunque non essendo un tecnico espertone io dico che la finitura lascia un po' a desiderare poi fate voi come vi pare detto questo altre cose da dire no no non ho da dire io vi ho messo tutti gli ingredienti il mio parere forse sono stato anche un po' cattivo però è bene far capire a chi mi sta di fronte che i punti deboli ci sono un po' in tutti gli orologi è bene metterli in evidenza perché tanto se poi uno l'orologio lo vuole ma cosa ne frega se qua c'è spigoloso che se qua è spigoloso se la corona fa così uno vuole lo compra se uno invece già titubava in partenza con queste magari caratteristiche dettagli che io elenco si tira indietro ma è normale io devo devo dirvi i punti deboli di un orologio perché poi se poi voi lo prendete e mi dite ma perché non mai dedo che qua era taliente e io che figura ci faccio faccio una figura dello scemo perché ho detto no ma non lo dico per non offendere i signori vostri no no lo dico lo dico basta no boh ragazzi a me mi sembra ad aver detto tutto io non è che posso star qua a giornate intiere a smacchiare i giaguari e a spiegarvi gli orologi devo andare a vedere i gattini su instagram la biscimietta va a vedere le scimmiette su instagram e ognuno ha il suo hobby preferito non mi resta quindi che ricordarvi gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.